Alessio Nicol tra Globus Television, innanzitutto esordio ufficiale al Massimino contro l'Agragas domenica scorsa, che sensazione hai provato a giocare di fronte al pubblico di Catania? La sensazione è la prima volta, bella, perfetta. In tutto il momento la torcida è sempre l'appoggiando, quindi questo fa che la squadra abbia più forza, farà sempre male. Per me è bello. E domenica, con la forza della torcida, con questo diamo il risultato perfetto. Senti, per caratteristiche tecniche, abbiamo parlato di questa amicizia con Pouba, per caratteristiche tecniche dove preferisci giocare e c'è qualche giocatore, magari che è passato anche in Italia, perché anche in Brasile seguite il campionato italiano, a cui magari ti ispiri e a cui ti piacerebbe ricalcare le orbe. Dove preferisci giocare come posizione? Se è centrocampista centrale, se è mezzale, poterti spingere di più in avanti come hai fatto domenica scorsa o difendere? Come domenica, domenica, il secondo tempo, perché io ho giocato meglio. Il primo tempo è un po' sotto, però la seconda parte ho avuto l'opportunità meglio, e così la vola è arrivata più in avanti. Hai provato anche a segnare, sul finale ci sei andato vicino. Che impressioni hai avuto del Catania e di Catania? Che impressioni hai avuto del Catania e dell'equipo del Catania? Sì, la persona è bellissima, bellissima, come ti ho parlato, la torcida è sempre appoggiando a tutto il tempo, a tutto il tempo, questo fa che abbiamo più forza per continuare a 90 minuti forti. Il tifo che sostiene tutto il tempo è una forza aggiunta. Com'è allenarsi in questo centro sportivo? Sì, è un centro sportivo che come ho parlato non ha molto, però non ha molto alla Serie 6. Questa è la prima. Quindi abbiamo la lavoro, che abbiamo troppo troppo di le altre squadre. Le altre squadre, come non abbiamo questo, quindi abbiamo che suplire molto con questo lavoro che abbiamo tutti. suplire tutto, capito no? Con questo centro di trattamento che abbiamo, abbiamo che lavorare molto più. Visto che c'è questo centro sportivo, che in Serie C non si trova, ma è più da Serie A, loro hanno la responsabilità di lavorare molto di più, perché sentono addosso questo privilegio di poter lavorare qui. Grazie.